Il rapporto al commercio Eculo firmano davanti a tutti voi, dando una notizia, una notizia che sono in dati 51 i candidati che hanno sottoscritto ed è un candidato del nord-ovest che è qui con noi, che è Lorena Lucattini, che chiedo a questo punto so che ha dei tempi di venire solo di fermare, davanti a tutti, a favore anche della macchina scelta, a tutti questi candidati di qua di qua, prego, 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 di non fare un convegno, un comizio, non è questo il caso, però magari una battuta la chiedo a tutti quanti per cui dopo questa firma, non è la segna in bianco, la promessa, il 50% è uno stipendio, una cosa che devo dire, io apprezzo indipendentemente, non solo, non tanto per il fatto di aver stato scritto questo documento e questo impegno, devo dirlo appunto, quando un candidato, un politico si avvicina alle persone, mentre la propria faccia, la propria firma, ecco, ahimè, non siamo più abituati a tutto questo per cui grazie, una battuta, una battuta e la procedura. Direi che quando è arrivata la proposta di aderire era impensabile non farlo perché comunque nel nostro programma è uno dei punti fondamentali, di conseguenza era fondamentale farlo, sapete che anche a livello europeo, non solo noi, ma comunque il nostro obiettivo sarà quello di contrastare il TTIP perché sicuramente va contro quello che oggi avete detto. Grazie. Ah, la foto che ho messo il porto a strada, sappiamo a tutti qua, chi è che fa la foto? Sara, quella. Foto, foto, Sara, foto con il mio profumetto. Grazie, grazie, grazie mille. Grazie.